Da domani vivremo con la mamma. Sgombera la tua stanza perché la faremo trasferire qui e ci prenderemo cura di lei. Sentendo queste parole, rimasi scioccata.Da quando ero andata a trovare mio suocero e avevo appreso un certo fatto. Avevo avuto la premonizione che George avrebbe detto qualcosa del genere un giorno. Tuttavia, non avrei mai pensato che sarebbe diventata realtà così presto.Guardando dritto negli occhi di George, dissi con la gola secca per il nervosismo. Capito? Chiamo i traslocatori. Quando parlai di traslochi in risposta alla sua richiesta di sgomberare la stanza, George mi guardò perplesso.Perché dovresti chiamare dei traslocatori? Chiese, stupito della sua insensibilità.Dentro dimesso ghignai e dissi, perché stiamo divorziando? Cosa? L'espressione sciocca di George si allargò davanti ai miei occhi. Avevo previsto che la parola divorzio lo avrebbe sorpreso. Aspetta e basta. Non lascerò che le cose vadano come vuoi tu. Sono Isabella Smith. Ho 37 anni e lavoro nel reparto vendite di una società di consulenza estera. Fin dall'infanzia ho avuto un'eccellenza accademica e mia madre mi ha insegnato che l'impegno viene premiato. Così ho continuato a impegnarmi. Sempre tra i primi della classe. Mi sono fatta rispettare da insegnanti e compagni. Ho frequentato una rinomata università dove, oltre agli studi, mi sono diligentemente impegnata in club e attività di volontariato, costruendo una ricca rete di contatti. Quando, dopo la laurea, sono stata assunta dall'azienda dei miei sogni. Ho sentito che tutti i miei sforzi erano stati ripagati. Alla fine, come manager del reparto vendite, mi sono impegnata nel lavoro. Sono stata riconosciuta per le mie capacità dai miei superiori e sono stata discretamente avvicinata alla possibilità di essere promossa a direttore. Sebbene la promozione sia un onore, ho esitato un po'. Se fosse successo prima, avrei accettato immediatamente, ma in un'età in cui stavo pensando al matrimonio. Quel pensiero si è fatto strada.Con una promozione, sarei diventata ancora più impegnata, rendendo difficile trovare il tempo per una relazione. Anche se ho sempre voluto sposarmi, ho deciso di dare la priorità alla mia carriera e di rimandare gli impegni sentimentali.La maggior parte dei miei amici ha una famiglia e si dedica alla crescita dei figli. Mentre sono sempre meno quelli che lavorano a tempo pieno come me. Pertanto, ho deciso di mettere in attesa la mia offerta di lavoro e di iniziare a impegnarmi in una relazione.Poiché mi era difficile trovare un partner al lavoro. Mi sono subito rivolta a un'app di incontri. Non mi sono concentrata sul reddito dei potenziali partner, ma ho cercato una persona vicina per età.Tuttavia, anche se avessi trovato una persona attraente. A meno che i nostri sentimenti non fossero allineati, non saremmo stati una buona coppia.Forse perché avevo 37 anni, non sono riuscita a trovare un partner come speravo.Dopo un mese di utilizzo dell'applicazione, l'unica persona con la quale ho trovato un buon feeling è stato un uomo di nome George.Dopo diversi scambi di messaggi, ci siamo incontrati di persona. Era un bel 33enne, 4 anni più giovane di me.Durante il nostro primo incontro. Mi sono chiesta come mai un uomo così bello si fosse fatto abbinare a me.Mi piacciono le donne più grandi.Dopo aver stabilito vari criteri, non sono riuscito a trovare il mio tipo di donna anziana. Quando ti ho vista, Isabella, è scattato il colpo di fulmine, mi ha detto, rendendomi felicissima.Durante il nostro primo appuntamento. Ero già attratta dalla personalità e dal comportamento di George. Poi, al secondo appuntamento. Mi confessò inaspettatamente i suoi sentimenti e diventammo una coppia.Durante non mi aspettavo che la nostra relazione procedesse così bene e mi sono pentita di non aver usato l'app di incontri prima.Anche se di poco. George lavora in una fabbrica locale di ricambi per auto e vi lavora da quando si è diplomato. Nel frattempo, io mi occupo di affari internazionali presso una società di consulenza estera.Quando gliel'ho detto, mi ha ascoltato con attenzione. Con gli occhi che brillavano di interesse.Credo che nessun lavoro sia superiore o inferiore e che il lavoro in fabbrica sia rispettabile.Ma essere lodati sinceramente mi ha fatto sentire bene.Lavorare in una società di consulenza straniera deve avere un buon stipendio, giusto? Ha chiesto.Anche se è più giovane.La sua innocenza e la sua disponibilità lo rendono sempre più attraente per me, ho risposto.Beh, il livello di retribuzione è relativamente alto nel settore.Ho aggiunto.Sentendo questo, ha detto, capisco, sono invidioso. Sono solo diplomato.Quindi rispetto ai miei amici laureati il mio stipendio è più basso e mi sento un po' complessato per questo.Anche se sorrideva mentre parlava, dietro quel sorriso percepivo le sue ansie e i suoi desideri finanziari.La nostra conversazione continuò.Ma George la indirizzò ripetutamente verso argomenti finanziari.Era chiaro che desiderava profondamente la stabilità e il miglioramento economico.Un sentimento che traspariva con forza dalle sue parole e dalle sue azioni.Vedendo George ascoltarmi con serietà.Non potevo che pensare che fosse una persona sincera.Dopo soli sei mesi dal nostro incontro, stavamo per sposarci.Il mio cuore era pieno di gioia, quasi come se stessi galleggiando.Mai avrei pensato di sposare un uomo più giovane e bello alla mia età.Tuttavia, quando le cose sembrano troppo belle per essere vere, spesso lo sono, e presto me ne sarei resa conto.Decidemmo di iniziare le presentazioni del nostro matrimonio a casa dei miei genitori.La sorpresa sul volto dei miei genitori quando videro George per la prima volta fu incommensurabile.Come hai fatto a trovare un uomo così bello come marito?Isabella.Sei così fortunata.Anche se le loro parole mi sono sembrate un po' sgarbate.Hanno dimostrato quanto George piacesse loro.Dopo aver incontrato con successo la mia famiglia.Andammo a conoscere la famiglia di George.Lì abbiamo affrontato un problema inaspettato.Dunque, tu sei Isabella, esordì la madre di George.Come dire, non sei proprio quello che mi aspettavo.Non riuscì a nascondere il mio stupore per le sue parole dure al nostro primo incontro.Mi scusi, che cosa ha appena detto?Ho cercato di chiarire, ma lei ha liquidato il tutto con...Beh, va bene, e ha lasciato una stanza.Sono terribilmente dispiaciuto.Mia moglie tende a dire tutto quello che le passa per la testa.Il padre di George si scusò.Nonostante il commento della madre di George, mi sentii sollevato dal comportamento gentile del padre.Sì, sono solo sorpreso.Non vedo l'ora di conoscerti meglio, risposi, facendo una reintroduzione rispettosa.Poi George suggerì con entusiasmo, smettiamola di parlare avambera.Andiamo a vedere la nostra nuova casa.Smettila di parlare avambera.Pensai tra me e me, ma George sembrava spensierato dopo i saluti e mi accompagnò allegramente.Preferirei un posto vicino alla casa dei miei genitori.È comodo, sai, disse George.Capito.Facciamo così.Accettai.Non avendo particolari preferenze per la nostra residenza e scegliendo di seguire i desideri di George.Così completammo i saluti con entrambe le famiglie e ci sposammo definitivamente.Scegliemmo un appartamento in un grattacielo vicino alla casa dei genitori di George, seguendo il suo forte desiderio.Il mio cuore continuava a battere per l'eccitazione.Mi accollai il mutuo dell'appartamento, pagando 1900 dollari al mese.Mentre George accettò di occuparsi delle spese di vitto e alloggio.Ci sposiamo tra sei mesi.Sono entusiasta del nostro futuro, disse George.Vedendo il sorriso di George.Il prestito mensile di 1900 dollari mi sembrò sorprendentemente leggero.Sentivo che la nostra nuova vita matrimoniale era piena di promesse.A quel tempo non potevo nemmeno immaginare i rimpianti che sarebbero arrivati in seguito.Una settimana dopo il nostro matrimonio, durante un fine settimana, mia suocera visitò la nostra nuova casa per festeggiare.Ciao, mamma, la salutai, cercando di mantenere un'espressione allegra nonostante ricordassi il nostro precedente incontro.unf, vivere in un posto come questo, che presunzione.Oh, desideravo questo tavolo.Posso prenderlo?Cosa?Oh, e anche questa faccia e questa libreria.Sono perfetti per i miei gusti.George lo sa bene.Ha osservato mentre si guardava intorno, esprimendo il desiderio di prendere i nostri arredi per sé.Non era qui per fare le congratulazioni?Giusto, ho pensato che si adattasse ai gusti della mamma.Sentiti libero di usare tutto quello che c'è qui.Incredibilmente, anche George stava incoraggiando sua madre nello stesso modo proprio in quel momento. E non riuscì a nascondere il mio stupore.Ciò che mi sorprese di più fu che da quel giorno mia suocera visitò spesso la nostra casa.A ogni visita.Trovava qualcosa che desiderava, come mi presti questo piatto fino a domani o, volevo questo massaggiatore per i piedi.Me lo presti per una settimana e poi lo porto a casa.Anche se diceva che li prendeva in prestito, ho notato che nessuno degli oggetti tornava mai indietro.Così ne ho parlato casualmente con George.Le cose che abbiamo prestato a tua madre non sono tornate.Potresti parlarne con lei?Chiesi gentilmente. Tuttavia, sembrava che George avesse percepito la mia preoccupazione come un fastidio nei confronti di sua madre.Non è un grosso problema, no, non è che si sta riducendo qualcosa.Alla fine verranno restituiti.Inoltre, tu hai un buon reddito, quindi penso che non ci siano problemi a dare alla mamma un piatto o due, fu la sorprendente risposta.Non viene ridotto.In realtà, nulla di ciò che presto viene restituito e la maggior parte del mio reddito è destinato al mutuo.Avevo delle cose da dire, ma non volevo creare attriti con George a causa di sua madre così presto nel nostro matrimonio.Mi dispiace.Ho sbagliato.Aspetterò pazientemente il loro ritorno, dissi, risolvendo la questione.Oh, allora va bene.Quando George capì che non volevo insistere ulteriormente su sua madre, mostrò subito un sorriso sollevato.Tuttavia, nel mio cuore rimase uno strano starnuto.Questo starnuto è diventato realtà quando mia suocera ha iniziato a contattarmi spesso, non solo in visita.Le sue richieste erano tipicamente, mi fanno male i piedi.Potresti comprarmi un vestito nuovo in quel negozio?Si trattava di una semplice commissione.Perché devo farlo?Prima ancora che potessi chiederlo, mi metteva sempre fretta.Sbrigati.Non importava se ero al salone o a un appuntamento con George.E George diceva, mamma non può andare a fare la spesa da sola.È pietoso.Provate ad ascoltarla un po'era già abbastanza frustrante, ma dopo aver svolto i compiti non mi ringraziava mai, dicendo sempre, te li restituirò più tardi.Ma non lo faceva mai.Naturalmente, mi sono preoccupata di quando sarebbe arrivata la prossima chiamata, trascorrendo le mie giornate nella paura.In un momento in cui questo rapporto anomalo tra suocera e nuora continuava.George mi comunicò che suo padre era caduto ed era stato ricoverato in ospedale.Papà è scivolato sulle scale di casa.È anziano.Avrebbe dovuto fare più attenzione.Nonostante l'infortunio, le parole di George suonavano quasi beffarde.Anziano.Ha solo 63 anni, giusto?Se è in salute, usare le scale è normale.Inoltre, è successo in casa.Perché sei così indifferente?Rispettavo mio suocero, che era sempre gentile con me.A differenza di sua moglie.Mi sono arrabbiata con George per aver parlato male di lui.Non sono affari tuoi, Isabella.Lascia perdere.Sentendosi criticato.George disse questo e tornò nella sua stanza.La mattina dopo decisi di andare a trovare il suocero ricoverato.Lungo la strada comprai dei fiori.Era sorpreso, ma mi ringraziò gentilmente con un sorriso quando vide i fiori.La gamba era fasciata.Sembrava una frattura.Era chiaro che la sua degenza in ospedale si sarebbe prolungata.Stabene.Padre?Sì, sono solo contento che non sia nulla di letale.Ma, Isabella, c'è qualcosa che voglio dirti.Mi guardò intensamente, come se stesse riflettendo profondamente.Cosa voleva dirmi, dato che non avevamo interagito molto, pensai subito che potesse riguardare sua moglie o George.In realtà, dopo aver ascoltato la sua storia, ho provato diverse emozioni.La più forte era la rabbia verso George e sua madre.Non parlate ancora di questa conversazione.Parlerò quando sarà il momento giusto.Capito? Annuii profondamente alla sua richiesta, ancora scossa dallo shock di ciò che avevo sentito. Passarono sei mesi da quando si era fratturato la gamba.In quel periodo le telefonate di mia suocera si fecero ancora più insistenti.Raggiungendomi spesso al lavoro.Mi dispiace, sono al lavoro in questo momento.Non importa.Vende subito.Altrimenti ti porto via tutto da casa.Le sue richieste sembravano quasi delle minacce.Mentre lavoravo fuori, finii per dover soddisfare le sue richieste, il che mi distrasse dal mio lavoro, causando la preoccupazione del mio capo.Per sfida contro i suoi ordini, ho trovato il coraggio di cambiare il mio numero di telefono.Tuttavia, non riuscendo a contattarmi, è venuta direttamente a casa nostra a lamentarsi.L'azione mi si è ritorta contro, facendomi sentire in trappola senza via d'uscita.Se fosse stata un'estranea, avrei potuto denunciarla alla polizia per stalking.Ma essendo una famiglia, sentivo di non poter chiedere aiuto.E questo mi angosciava.Poi è arrivato il momento inevitabile.Un sabato pomeriggio, mentre tornavo dalla spesa e stavo per iniziare a preparare il pranzo.Giorgia apparve in cucina e dichiarò, da domani vivremo con la mamma.Sgombera la tua stanza perché la faremo trasferire qui e ci prenderemo cura di lei.Sentendo queste parole, rimasi scioccata.Da quando ero andata a trovare mio suocero e avevo appreso un certo fatto, avevo avuto la premonizione che George avrebbe detto qualcosa del genere un giorno.Tuttavia, non avrei mai pensato che sarebbe diventata realtà così presto.Non era passato nemmeno un anno dal nostro matrimonio.Avevo già deciso cosa avrei fatto se George avesse davvero scelto di vivere con sua madre.Guardando dritto negli occhi di George, dissi con la gola secca per il nervosismo, capito?Chiamo i traslocatori .Quando parlai di traslochi in risposta alla sua richiesta di sgomberare la stanza, George sembrò perplesso.Perché dovresti chiamare dei traslocatori?Chiese, stupito della sua insensibilità.Dentro di me sogniai e dissi, perché stiamo divorziando.L'espressione sciocca di George si allargò davanti ai miei occhi.Avevo previsto che la parola divorzio lo avrebbe sorpreso.In effetti, era da molto tempo che stavo pensando di lasciare George, soprattutto dal giorno in cui avevo saputo di George e di sua madre da suo padre.Aspetta e basta. Non permetterò che le cose vadano come vuoi tu.Con questo proposito, mi lavai le mani in cucina, mi tolsi il grembiule e tornai in camera mia.Stringevo forte in mano i documenti del divorzio.La mia parte era già compilata.Ecco, i documenti del divorzio.La prego di firmarli e di consegnarli.Più tardi contatterò i traslocatori per sapere quando possono venire e poi venderò questa casa.Giorgi Impallidi alla vista dei documenti di divorzio.Non deve aver immaginato che avevo già i documenti di divorzio compilati.Cosa?Il divorzio?Perché così all'improvviso?E vendere la casa.Non si può decidere così.Sentendo George pronunciare quelle fredde parole.Mi resi conto che aveva trascurato un fatto cruciale.È possibile?La casa è stata acquistata a mio nome, ricordi?L'hai dimenticato?Sono io che pago il mutuo.Se sono d'accordo, la vendita della casa può procedere immediatamente.Cosa?Gli occhi di George si allargarono per lo stupore.Anche si era più giovane di me e aveva circa trent'anni, era quasi ridicolo che non capisse una cosa così elementare.Vedendo George incapace di rispondere.Pensai che la discussione sarebbe potuta andare più liscia del previsto.In quel momento la porta d'ingresso si aprì ed entrò qualcuno.Mi scusi.Giorgi, come va il progetto di convivenza?Inaspettatamente, era apparsa sua madre.Ero sicuro di aver chiuso a chiave la porta d'ingresso, ma vedendo la chiave di riserva in mano alla suocera mi infuriai.A quanto pareva.George aveva fatto una chiave di riserva e gliel'aveva data a mia insaputa.Mi dispiace, mamma, ma io e George abbiamo deciso di divorziare.E io sto vendendo questa casa.Il progetto di convivenza è saltato.Prima che potesse dire qualcosa, la informai rapidamente e lei esclamò sorpresa.Davvero, di che cosa stai parlando?Sei fuori di testa?A prescindere dalla sua opinione, non le permetterò di sconvolgere i nostri piani.Credo che George abbia sposato una moglie meravigliosa.Dopo tutto, lei ha un lavoro ad alto reddito e ha una casa così bella.Ho fatto bene a scegliere lei come partner matrimoniale su mio suggerimento.Ora, vendere la casa o divorziare non è altro che una favola. Non lo permetterò, parlava con calma, ma le sue parole erano incredibili.Sposarsi su tuo suggerimento.Cosa intende dire?Letteralmente quello che ho detto.Era un'applicazione di abbinamento?Al giorno d'oggi non c'è bisogno di un'agenzia matrimoniale.Ci sono alternative convenienti.Ho controllato ogni donna che George aveva trovato sull'app.Era difficile trovare qualcuno che rispondesse ai criteri.Stavo per arrendermi e rivolgermi a un'agenzia matrimoniale. Quando ho trovato lei, lavorando in un'azienda di consulenza straniera, ho pensato che avessi un buon reddito.E avevo ragione.Ascoltare le sue parole mi fece venire il mal di testa.Quindi, George aveva utilizzato l'app di Matchmaking per cercare un partner con un reddito adeguato insieme a sua madre.Ricordando la conversazione che avevo avuto prima con suo padre.Era chiaro che George non provava amore per me.Aveva senso che un uomo affascinante come George scegliesse una persona come me, che non aveva qualità eccezionali a parte il reddito.Sull'app di matchmaking dovrebbero esserci molti individui più giovani e più attraenti.I dubbi che avevo da tempo venivano risolti uno dopo l'altro man mano che il problema si presentava.Con la sola rabbia che mi saliva dentro.Ecco perché dovresti continuare a pagare il mutuo della casa e vivere con noi in pace.Hai già 38 anni.Sarebbe difficile risposarsi.No, dovresti essere grato che un uomo come me ti abbia sposato.Quindi tollera di vivere con mia madre.Con l'appoggio di sua madre, George si dichiarò soddisfatto.Come posso fare in modo che questi due siano d'accordo con la mia prospettiva?Pensando con calma, erano George e sua madre ad avere argomentazioni illogiche.Tuttavia, non potevo più sopportare di ascoltarli, considerandoli sono dei bambini egoisti.E cominciai a pensare che qualsiasi conversazione seria tra adulti sarebbe stata inutile.Stavo pensando di fingere di accettare la convivenza temporanea e la proposta di divorzio di.Rei alla prossima occasione, quando il campanello suonò, facendomi trasalire.Controllai il visitatore sul monitor alle cd e sussultai al cospetto di mio suocero.Chi è?Chi è venuto?Sembrava che George e sua madre non potessero vedere il suo volto sullo schermo, dato che io ero in piedi davanti al monitor.Si.Dopo una breve risposta.Aprì la porta.La visione di lui che varcava l'ingresso con l'autoserratura fu confermata.Ben presto il campanello della stanza suonò di nuovo e io aprì con cautela la porta.Padre, cosa la porta qui?Sono venuto a controllare se mia moglie è qui.Madre?Sì, è qui.Ma, va bene.Allora entro.Dicendo questo.Mi ha dato una leggera pacca sulla spalla come per rassicurarmi e si è diretto verso il soggiorno, dove ho tirato un sospiro di sollievo.Chi?Tu.Perché sei qui?Non dovresti essere in ospedale.Era stupita di vederlo, come se avesse visto un fantasma.Sì, sono stato ricoverato per colpa di qualcuno.Ma sono stato dimesso ieri.Le sue parole erano calme.Ma avevano un potere silenzioso.Dimesso ieri.Non l'ho saputo.Avresti dovuto dirmelo prima.Avevo intenzione di venirti a prendere.Lei si affrettò a trovare delle scuse, cercando di apparire come una moglie premurosa.Ma i suoi sforzi mancarono chiaramente il bersaglio e sia io che mio suocero ci scambiamo un sorriso ironico.Tiratemi su.Oh, perché le tue gambe non vanno bene?Andresti a piedi a prendermi?O forse in taxi?Beh, in ogni caso.Anche se avessi saputo del mio congedo, non saresti venuto a prendermi.Il suo sguardo tagliente era fisso su di lei.Perché hai detto una cosa così terribile?Non è vero.La sua voce sembrava profondamente ferita.Ma sapevo che era tutta una recita.Sapevo dai suoi racconti quanto fosse facile per lei mentire.Uf, ipocrita.Sei stato tu a spingermi giù dalle scale, non è vero?Per poter dire una cosa del genere con tanta facilità appunto le sue parole erano piene di forte risentimento nei suoi confronti.Di fronte a questa scioccante rivelazione, rimasi ammutolito.Lei lo aveva spinto giù dalle scale.Per quanto fossi sorpreso, mi sembrava possibile che venisse da lei.Tuttavia, avendo già sentito parlare della discordia tra lui e lei.Capii che le sue parole erano vere.Di che cosa sta parlando?Non ci sono prove.Le sue stridenti proteste suonarono come una missione di colpa.Trattino trattino questa impaginazione mantiene l'ordine originale e chiarisce la separazione dei dialoghi e della narrazione per favorire la leggibilità.Dimmi.Il suo comportamento sembrava ridicolo.Mamma, hai davvero spinto papà giù dalle scale?Persino George, che non avrebbe mai pensato che sua madre potesse fare una cosa del genere, era scioccato.No, non farei mai una cosa del genere.Vero, George, ti sembro una persona che farebbe una cosa così terribile?Beh, sì.La risposta di George divenne improvvisamente vaga.Era consapevole che i suoi genitori non andavano d'accordo.Data la personalità di sua madre, sembrava ritenere che non fosse uno scenario impossibile.La verità rivelata da mio suocero ha chiaramente indebolito l'assertività di George e di sua madre.Vidi questa situazione come un'ottima opportunità per agire.Decisi di rivelare tutti i miei pensieri nascosti proprio in quel momento.Sono George, mamma. Quando sono andato a trovare papà in ospedale, ho sentito parlare di un certo piano. Sembra che tu volessi eliminarmi dopo avermi usato per le mie risorse finanziarie.E poi?Avevi intenzione di vivere a tuo piacimento con i soldi dell'assicurazione.Perché dici questo?George non riuscì a nascondere la sua sorpresa per la mia affermazione.Avevo saputo di questo piano sconvolgente da mio suocero mentre era ricoverato in ospedale.Gli era capitato di sentire George e sua madre discutere del loro piano per colpire i miei beni.I rapporti tra i genitori di George erano freddi da molto tempo e non si parlava quasi mai.Lei aveva una forte ossessione per il denaro, pretendendo costantemente che lui guadagnasse di più, mentre lei stessa sperperava denaro in marchi di lusso, scartandoli una volta stufa, causandone l'allontanamento.Sapendo. Che avevo risorse finanziarie.Lei e George hanno tramato per estorcermi denaro.Rendermi conto che anche questa proposta di convivenza faceva parte del loro tentativo di spillarmi denaro mi ha fatto venire i brividi.Se dovete fare dei colloqui segreti.Dovreste almeno fare attenzione al luogo.Mi sottovalutate?Dissi loro che avevano tramato in casa di mio suocero.I loro volti divennero rapidamente rossi.Non era chiaro se fosse per rabbia, imbarazzo o un mix di entrambi.Ma sembravano rendersi conto di essere in una situazione difficile.Ho ascoltato in silenzio.Ma per guardare le persone dall'alto in basso.Se aveste compilato con obbedienza, non avremmo avuto bisogno di ricorrere a queste misure.È vero, hai sempre pensato a noi come a una seccatura, vero, questo atteggiamento mi irrita molto.Messi alle strette, George e sua madre iniziarono subito a dare la colpa a me.Ero completamente esasperato dalle loro pretese egoistiche.Anche mio suocero li osservava con un'espressione cupa, che rifletteva gli anni di piacevole convivenza con loro.Guardando freddamente George e sua madre, feci un respiro profondo e cominciai a parlare.Guardare le persone dall'alto in basso.George, si tratta di te stesso?Pur guardandomi dall'alto in basso, hai sempre dato la priorità a tua madre, non è vero?Hai mai pensato a quanto questo mi abbia ferito?E madre, ho ascoltato molte volte le tue richieste irragionevoli.Ero sinceramente esausta delle tue richieste improvvise.Tuttavia, credo di aver sempre fatto quello che mi hai chiesto.La tua affermazione di avere le gambe malandate era una bugia, ho smesso di essere ai suoi ordini.Come ho già detto, sto divorziando da George e sto vendendo questa casa.Non ti darò nessuno dei miei beni punto a questa dichiarazione, Giorgio e sua madre sussultarono.In quel momento mio suocero aggiunse, mi dispiace, ma intendo divorziare anch'io.Sono anni che non ci parliamo quasi più e l'ho deciso quando sono caduto dalle scale.Quindi, per favore, puoi andartene adesso?Sei una seccatura.Il suo tono calmo aveva il peso di un pilastro familiare, facendo tremare Giorgio e sua madre.Il divorzio è fuori delle discussione.Assolutamente no, urlò mia suocera più per paura economica del futuro che per affetto nei suoi confronti.I loro motivi egoistici erano palesemente evidenti e rendevano la conversazione inutile, sia per me che per mio suocero, spegnendo ogni desiderio di continuare tali discussioni.Te ne pentirai dopo il divorzio.Ricorda le mie parole.Fai del tuo meglio per vivere da solo, Giorgio e sua madre lasciarono frettolosamente la casa.Se è tutto quello che hai da dire, fallo pure.Circa di vivere con le tue forze d'ora in poi", risposi con calma.Dopo lo scambio, ho espresso la mia profonda gratitudine al suocero, dicendo, padre, grazie mille.Lui sorrise gentilmente e disse, no, no, mi scuso profondamente per il disturbo che ti ho causato.Isabella, ti meriti una vita molto migliore davanti a te, e sono sicuro che troverai una persona migliore e ti costruirai un futuro felice.Con un'espressione serena.Uscì silenziosamente dalla stanza, seguendo Giorgio e sua madre.Alcuni giorni dopo, Giorgio presentò finalmente i documenti per il divorzio al tribunale e la nostra procedura di divorzio si concluse in modo molto semplice e rapido.Di conseguenza, entrambi iniziamo a percorrere nuove strade nella vita, interrompendo i nostri legami passati.Dopo il divorzio, ho deciso di iniziare un nuovo capitolo della mia vita.Ho lasciato l'appartamento di lusso in cui vivevo prima e ho deciso di trasferirmi in un appartamento più piccolo, più vicino al mio posto di lavoro e dotato di tutti i comfort necessari per vivere.Pagare il mutuo del precedente lussuoso appartamento in un drattacielo era davvero un grosso peso, per me.Liberarmi da questa pressione e stabilirmi in un appartamento in affitto più economico è stato un grande sollievo.Recentemente ho avuto modo di incontrare il mio ex suocero.Durante l'incontro.Mi ha informato che il suo divorzio era stato concluso con successo.Durante la conversazione è emerso un fatto nuovo.Secondo lui, George e sua madre si trovavano in uno stato di forte indebitamento.Questa informazione scioccante era del tutto inaspettata per me.Soprattutto per quanto riguarda George.Si scoprì che era stato profondamente coinvolto nel gioco d'azzardo anche prima del nostro matrimonio.E questo aveva portato al suo indebitamento.Anche il mio ex suocero sembrava ignaro di questo fatto e si scusò per questo punto.Lo rassicurai immediatamente che non doveva abbattersi così tanto.Non avevo mai immaginato che George avesse un problema di gioco così grave.Non ne aveva mai dato segno durante la nostra relazione punto quindi.Il motivo che lo spingeva a sposarmi aveva questo retroterra punto d'altra parte.La situazione finanziaria di sua madre era come avevo previsto punto aveva fatto spese per marchi costosi, con conseguenti difficoltà finanziarie, e in seguito aveva persino tentato di intraprendere dubbi a attività online per ingannare gli altri in cambio di denaro.Il mio ex suocero si è sentito rassicurato dal fatto che la sua decisione di divorziare era davvero.Saggia dopo aver capito la sua vera natura punto attualmente, George e sua madre vivono insieme in un appartamento angusto.Sembra che stiano lottando con la loro vita quotidiana.Già sommersi da difficoltà finanziarie prima ancora di iniziare a ripagare i loro debiti.Sentendo parlare della dura vita che probabilmente dovranno affrontare dopo avermi perso, come pilastro finanziario, ho pensato che dovessero giustamente affrontare questa dura realtà.Anche se una parte di me glielo augura.Non ho alcun interesse a coinvolgermi ulteriormente con loro e spero sinceramente che inizino a lavorare da qualche parte lontano.Da me.Emette queste circostanze. Ho provato una rinnovata passione per il mio lavoro, ottenendo la promozione a direttore vendite che era stata programmata.E ora sono a capo dell'intero team di vendita.Se da un lato questo ha aumentato il mio carico di lavoro, dall'altro ha aumentato il mio senso di realizzazione, provando la gioia di essere riconosciuto dagli altri.Se in futuro incontrerò qualcuno con cui condividere la mia vita, prenderei in considerazione il matrimonio.Ma anche in assenza di un tale incontro, non trovo alcun problema nel vivere una vita appagante attraverso il mio lavoro.Per il futuro, intendo concentrarmi su ciò che mi appassiona veramente, ottenendo risultati in quel campo.Intendo continuare a concentrarmi sulla mia carriera e sulla mia crescita personale, cercando di migliorare continuamente. Grazie. Grazie.